Sì, ho annunciato il mio sostegno a Nicola Fiorita, ritengo che sia anche coerente con i contenuti, la forma e il linguaggio che ho assunto e abbiamo assunto come coalizione nell'intera campagna elettorale. Ci sono maggiori affinità, non ideologiche assolutamente, perché sia Donato che Fiorita appartengono a un contesto politico al di là di chi li sostiene e li appoggia, che è assolutamente diverso dal mio. Non ci sarà un apparentamento? Assolutamente no, nessun apparentamento tecnico, un appoggio sulla valutazione più che altro del candidato, appoggeremo naturalmente quelle che saranno le scelte del governo di Fiorita laddove queste dovessero convincerci, diversamente le avverseremo. Il nostro ruolo sarà quello di essere propositivi, altrimenti potrebbe accadere quello che è successo negli anni dove l'opposizione diventa un'opposizione sterile e non produttiva per la città. È una scelta politica che aveva già anticipato Lupi, se vi ricordate, alla convention, poiché rispetto ai partiti non si può decidere a livello localista. Quindi è una scelta che parte da quel presupposto, è l'unico partito di centrodestra che non può appoggiare né il candidato di sinistra appoggiato dal centrodestra mascherato, né tantomeno il candidato di sinistra per come è rappresentato giusto l'appoggio del PD e 5 Stelle su Nicola Fiorita. Eh sì, è certo, perché Valerio Donato è un uomo di sinistra, lo ha dichiarato più volte, anzi si è definito maxista, ha strappato la tessera del PD a marzo ma rimane un uomo di quella matrice, Fiorita è appoggiato dal PD, ragion per cui dopo tanti anni ritorna un sindaco di sinistra e questo per volontà del centrodestra. Proprio per dimostrare e confermare che la mia scesa in campo era soltanto per dare un contributo alla città, pubblicamente ho dichiarato e ho detto che non voglio avere alcun ruolo se non quello di fare il consigliere nell'interesse esclusivo della città e dei cittadini catanzaresi, anche di quelli che non mi hanno votato. Sicuramente rassegnerò le mie dimissioni da Forza Italia, io sono ancora un iscritto di Forza Italia, qualcuno forse se l'è dimenticato nel momento in cui poneva il veto sull'unico candidato naturale, fisiologico di Forza Italia, scegliendo poi di appoggiare un candidato che aveva la tessera del PD e di questo poi laddove dovesse perdere donato dovrà anche risponderne mangio lavori, fossi lui mi dimetterei da coordinatore regionale di Forza Italia. Sicuramente al Comune e alla Regione dobbiamo vedere perché siamo subiudice, io non abbandonerò il mio ruolo di consigliere comunale, per me è un onore entrare a far parte di quell'Aula e credo che dovrebbe esserlo per tutti a prescindere dal risultato.